Nonostante una crisi economica ormai conclamata che indubbiamente ha messo a dura prova il nostro paese, il 2018 è stato un anno positivo per UbiBanca. Lo confermano i risultati annuali in crescita avendo raggiunto target importanti per il credito e il sistema dei costi. I numeri in termini risultati parlano da soli, abbiamo un risultato normalizzato superiore ai 300 milioni che si confronta con un risultato normalizzato del 2017 attorno ai 180 milioni, quindi una crescita significativa. Questo ci permette anche di proporre in assemblea un dividendo in crescita a 12 centesimi che è il dividendo più alto che proponiamo da molti anni e che in qualche modo rappresenta oltre il 5% di quello che è l'attuale prezzo dell'azione. Questo credo sia un'ulteriore dimostrazione che l'azione in questo momento come quella di buona parte del sistema bancario italiano è sottovalutata. Anche nel centro Italia sono aumentati gli impieghi, abbiamo consolidato la nostra quota di mercato, afferma Silvano Mannella, responsabile della macro area territoriale Lazio, Toscana e Umbria. Nella sola Toscana sono stati erogati 194 milioni di euro, ad Arezzo 82, a Firenze 61, a Siena 51. Ricordo con soddisfazione precisa Mannella che dal 2018 l'esperienza dei dipendenti toscani nel settore orafo è stata messa a frutto da UbiBanca, che avviando la commercializzazione di prodotti e servizi in oro nelle filiali di tutta Italia, rappresenta oggi la principale realtà bancaria di riferimento per i distretti orafi italiani, oltre che per capacità di offerta di oro da investimento. Nonostante delle condizioni avverse riteniamo che possiamo impegnarci a cercare di realizzare per il 2019 un utile superiore a quello già molto in crescita, come abbiamo visto, per il 2018. Abbiamo conoscenze, risorse, solidità, soluzioni che a mio avviso ci permettono di poter realizzare questo auspicio.